Questo studio nasce da un lavoro generale di revisione di tutto il materiale che era stato recuperato nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso sull'antica spiaggia di Ercolano. Si tratta di materiali molto interessanti che sono stati studiati dal punto di vista dell'antropologia fisica, si tratta degli scheletri e degli oltre 300 fuggiaschi che qui erano stati recuperati, ma anche di tutto il materiale che li accompagnava. Se noi cominciamo a guardare all'insieme, al contesto, facciamo delle scoperte davvero molto interessanti, come ad esempio quella che ho potuto fare restudiando sia l'armatura che i dati di antropologia fisica di un personaggio dell'età di circa 45 anni recuperato proprio nel luogo dell'antica spiaggia. Con ogni probabilità questo personaggio è un geniere dell'esercito, un fabber navalis, apparteneva alla flotta del Miseno e faceva parte della spedizione di salvataggio che Plinio il Pecchio lanciò per portare aiuto alle popolazioni che si trovavano nell'area, abitavano nell'area del Golfo di Napoli. In particolare mi sono interessato dello studio dell'armatura, i cui dettagli decorativi sono davvero molto significativi, e anche di uno zainetto che questa persona aveva sulle spalle. All'interno di questo zainetto infatti vi erano una serie di strumenti che servono per lavorare in legno. A pochi metri dal punto dove fu ritrovato questo scheletro fu anche rinvenuta una barca con tre rematori su ogni lato, che non può essere una barca per pescatori, ma che invece è stata ritenuta dagli studiosi una banola lancia militare. E questo sembra dare ulteriore conferma a questa ipotesi e darci la spiegazione di cosa ci facesse nell'ultima notte di vita alla città di Ercolano, un militare sull'antica spiaggia, organizzava la fuga dei coloro che cercavano di portarsi in salvo.